Oggi è un po' la speranza che rispetto all'estensionismo e all'evocazione del fantasma dell'estensionismo la gente venga. Alla fine sono elezioni molto sentite, da noi ovviamente si raddoppia con la regione di Lombardia. Mi dicono che sembra che ci sia una scuenza buona, per cui già quello sarebbe un risultato molto importante. Si leggerà anche come tagliando alla giunta sala? Forse sì, da questo punto di vista sto speranzoso, ovviamente sono anche cosciente un po' di come in questo momento la situazione, di come ci sia spazio, con cui le forze politiche abbiano tutte un seguito e molto diviso, però penso di sì, vediamo un po' quello che succede. Grazie. Ok, grazie a voi.